Ciao a tutti, sono Luca Gentile della società agricola GED. Oggi ci troviamo a Mottola in provincia di Taranto. Questa è un'azienda che ha fondato il mio bisnonno circa 80 anni fa, dopo di che ha continuato mio nonno materno. Dall'anno 2019 sono subentrato anch'io nella gestione dell'azienda nel momento in cui ho finito gli studi ed è da qui che abbiamo apportato delle nuove innovazioni tecnologiche. Alleviamo circa 180 capi di cui 90 in lattazione e il resto rimonta e asciutta e abbiamo delle produzioni di circa 31 o 32 litri con titoli di grasso all'incirca di 4 e proteine di 360-370. Abbiamo in gestione circa 70 ettari di cui una cinquantina di proprietà e il resto in affetto che utilizziamo per la coltivazione di foraggio con il quale alimentiamo le nostre vacche. Inoltre l'azienda è situata in una zona in cui abbiamo 10 ettari di cui 3 ettari di bosco che le vacche hanno sempre a disposizione più altri 10 ettari di seminativo che in estate dopo che è venuta la raccolta vengono utilizzati anch'essi per il pascolo. Collaboriamo con la Tecnozoo tramite l'alimentarista di zona che è Alessandro Matarrese con il quale abbiamo cominciato a lavorare partendo dall'asciutta poiché avevamo dei problemi dopo il parto legati alla ritenzione di placenta e anche successivamente a tecchimenti dopo le fecondazioni. Il prodotto che abbiamo utilizzato per questa fase è stato il Dry Cow Fertile con il quale abbiamo avuto immediatamente dei risultati e adesso le ritenzioni di placenta si sono quasi azzerate e abbiamo un tasso di concepimento al primo servizio che è superiore al 40 per cento quando in realtà prima era inferiore al 15 per cento. Il prodotto che abbiamo utilizzato è il Tecno Complex Milk con il quale abbiamo avuto dei risultati in particolare un aumento della produzione di circa due litri e una stabilità dei titoli di grasso e proteine anche nei periodi più caldi. Sono Alessandro Matarrese alimentarista di zona della TecnoZo. La collaborazione con l'azienda G&D è cominciata 8-9 mesi fa. Grazie alla loro fiducia e per la quale mi sento di ringraziarli profondamente abbiamo iniziato a lavorare su un discorso di asciutta e abbiamo nel tempo migliorato sensibilmente i tassi di Conception Rate e di inseminazione al primo servizio. La collaborazione poi si è stesa anche al gruppo di lattazione e anche la grazie sempre alla collaborazione al gioco di squadra si sono raggiunti degli ottimi risultati in termini produttivi e riproduttivi. Ora i prossimi obiettivi sono lavorare sul discorso manze e vitelle da latte in modo tale da riuscire ad avere una rimonta futura migliore e più produttiva. Per il futuro con mio padre ci siamo posti come obiettivo quello di aumentare il numero di capi e apportare nuove innovazioni tecnologiche. Per fare ciò il prossimo obiettivo con la TecnoZo sarà quello di lavorare anche su manze e vitelle e anche quello di aumentare la produzione di latte e quindi di lavorare sulla lattazione.